Una grande attenzione al mondo giovanile, una grande attenzione a prevenire le dipendenze e quindi una particolare attenzione ai luoghi dell'istruzione, ai luoghi della formazione. Prevenzione e contrasto dello spazio di sostanze stupefacenti vicino agli istituti scolastici di Bibbiena. È stato così sottoscritto in prefettura il protocollo scuole sicure. È un fenomeno che interessa i giovani e anche i giovanissimi. Purtroppo l'età delle dipendenze è sempre più anticipata, quindi sono tutte misure che vengono messe in campo per rafforzare il controllo del territorio. Si tratta di fondi ministeriali per la sicurezza urbana, 11.000 quelli destinati al comune di Bibbiena. Il progetto prevederà l'acquisto anche di strumentazioni, sia strumentazioni di controllo, ovvero varie videosorveglianze in dei luoghi critici, ma anche delle strumentazioni tecnologiche che andranno a capire, a verificare se c'è la presenza di stupefacenti all'interno di queste zone critiche, oltre che tutta una serie di eventi, di formativi e di sensibilizzazioni sul tema. Fondamentale sarà il contributo della Polizia Municipale nel progetto che interesserà le scuole superiori, ma anche quelle medie, in un'ottica di sensibilizzazione. Là dove si agisce in via preventiva è sempre opportuno iniziare tempestivamente e purtroppo anche nelle scuole medie, i 13 anni, anche i 12 anni, insomma, sono momenti delicati.